Uno 0-0 utile per il Teramo che chiude in Brianza il ciclo degli scontri diretti con un ottimo bilancio in quattro partite, due vittorie, un pari e una sconfitta. I punti raggranellati consentono alla squadra di Maurizzi di salire a quota 38, il vantaggio sulla zona che scotta ora è di 5 punti. Non è ancora salvezza ma il cammino è quello giusto. Della partita allo stadio Cittadimeda, la casa del Renate, poco da dire e anche da far vedere. Maurizzi conferma lo stesso 11 di una settimana fa con De Grazia in appoggio a Sparacello, con Infantino non ancora al meglio e dunque in panchina. Sul fronte opposto Diana schiera i suoi con il 4-3-1-2, con Venitucci alle spalle del tandem offensivo Pattarello-Spagnoli. Prima frazione di gioco in colore, giocata su buoni ritmi ma priva di emozioni. Il Renate, che di punti ne aveva 33, ha provato a fare la partita ma il Teramo è stato molto attento a chiudere tutti i varchi senza rischiare nulla ma anche senza proporre pericoli. Le uniche annotazioni sono dei padroni di casa. Alla mezz'ora, in una sporadica ripartenza, Venitucci si accentra e salta un paio di avversari ma sul sinistro giro c'è lo zampone di Caidi a dire no. Nel finale di tempo, azione convulsa, con un pallone spedito in area a terramana e rinviato da Celli sul destro di Rossetti, che da posizione molto favorevole calce in modo sporco, costringendo comunque Pacini e la deviazione in corner. Ripresa più vivace, con qualche occasione da registrare su entrambi i fronti. Il gioco riprende e al sesto c'è subito un'interessante trama offensiva del Renate. Vannucci con un lungo linea morbido innesca pattarello, cross calibrato al centro per Venitucci, ma la diagonale difensiva di Celli è perfetta così come l'appoggio aereo a Pacini. Al diciottesimo maxi occasione per il Teramo. L'azione parte lungo la corsia di sinistra, cross basso di ventola sul secondo palo per Sparacello, appoggio retrato per Proietti, che di destro, non il suo piede, manda alle stelle una sorta di rigore in movimento. Squadre ora un po' più spensierate e propositive. Intanto c'è il primo cambio del Teramo, dentro infantino per Sparacello. Poco dopo, ancora Teramo, pericoloso, con un tiro cross di Caidi, che raccoglie una punizione di Proietti. La sfera, colpita al volo, stava per ingannare il portiere Cincilla, molto bravo a respingere con la mano sinistra. Minuto 28, si rivedono i padroni di casa. Spagnoli nello spazio per Venitucci, che fa rimbalzare il pallone, calcia benissimo di prima intenzione, con Pacini costretto ad alzare sopra la traversa. Dalla successiva corner dello stesso Venitucci, Pavan stacca bene, ma il suo colpo di testa è troppo debole. E' l'ultimo sussulto della gara. Il Teramo conferma continuità in trasferta. Domenica, per archiviare la pratica salvezza, occorrerà trovare punti anche al Bonolis contro il Vicenza.